Secondo 0-0 consecutivo per il Campobasso che non riesce ad abbattere il muro di un Castelfidardo autore di alcun furto a Selvapiana. Lupi male per un tempo, bene ma a tratti nel secondo, più con la forza del cuore che altro, Superchiodini, portiere ospite in alcune circostanze. Gara preceduta da un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del professor Leo Leone, storico dirigente della Virtus Campobasso. La Nord poi si riserva un pensiero sentito per il 35enne tifoso Sandro Di Stefano scomparso la scorsa notte. Pochi spazi, il Castello è abbottonatissimo, al tredicesimo tenta di scappare Alessandro Macade fermato da Mapelli, il direttore di gara non si scompone di fronte all'accaduto. Replica marchigiana al quarto d'ora quando Ferrani rischia un incredibile autogol di tacco per anticipare in angolo, liberati. La gara vive su ritmi molto bassi, il Castello vuole addormentarla, il Campobasso sbloccarla. Al ventisesimo scambio Todino-Alessandro, la conclusione dell'argentino sorvola la traversa. Il rosso-blu sembrano svegliarsi, passano ancora due primi per il diagonale di Gabrielloni che passa davvero ad un palmo dal palo. Si chiude il primo tempo senza recupero, il rosso-blu hanno avuto la colpa di non essere stati in grado di imprimere velocità alla partita. Il Castelfidardo ha badato ad annullare la gara e a provare l'affondo. Il Castello fa entrare Minnozzi in luogo di Balloni dal primo della ripresa. Dopo 40 secondi del secondo tempo, ecco Todino alzare davvero di poco il potenziale pallone dell'1-0. All'ottavo da tiro sporco di Bontà, ecco l'irruzione di Todino che non è troppo convinto nel tiro, respinto centralmente da Chiodini. Dal dodicesimo il duo Favo-Corradino opta per un doppio cambio. Entrano Grazioso ed Aquino in luogo di Gabrielloni e Bontà. La partita è più aperta, lo stesso Castelfidardo sembra essere più propositivo al diciassettesimo incursione in area di Minnozzi. Un rimpallo favorisce Ferri che clamorosamente alza sopra la traversa una rete che sembra fatta consistente. Anche la chance di parte locale del ventitresimo quando Ferrani è dimenticato in area e ne approfitta per trovare Todino. È un miracolo quello compiuto di piede da Chiodini. Adesso i rosso-blu si fanno arrembanti anche se improduttivi. Al ventiseiesimo scatto a destra di Alessandro, Chiodini continua a chiudere ermeticamente la porta anconetana. Selva Piana si mangia le mani per il gol mancato. Dal trentaduesimo Corradino si gioca il tutto per tutto con Tascini che subentra l'anzilotta a rosso-blu iperoffensivi. Lo spunto di Grazioso del trentatresimo è neutralizzato ancora da Chiodini che forse concede qualcosa pure allo spettacolo. Il Campobasso serra le fila nella parte finale di gara. Gli sforzi risultano incommiabili ma Vani, l'ultimo in ordine di tempo, è al novantatresimo quando Grazioso ha vita e stirada di Alessandro Chiodini blocca centrale per le recriminazioni del pubblico locale. Punto d'oro per il Castello mentre la sosta della Serie D per le fasi finali del torneo di Viareggio per il Campobasso capita nel momento più giusto.